Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video Ora oggi voglio rilassarvi con degli anti-slats, dei fidget toy, mischiati tra loro, tutti, più o meno tutti quelli che ho E vi rilasserò così Ho cambiato anche la copertura, il microfono e ho messo quella peluciosa al posto di questa qui Sentirete dei rumori di sottofondo perché qui attualmente sta piovendo Quindi non posso farci niente Carecina verde Carecina Allora Vorrei iniziare subito con Queste pie qua, non so se ve le ricordate, ma sono quelle della Lidl che davano con la splash Con un rumurino per me è molto carino essentie In veículo In veHola In ve listed In veículo Inve촉 In veículo In veículo In veículo In veículo porto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi vorrei continuare con un classicone, cioè il fidget spinner. Ce l'ho in oro, come ben sapete è in viola. Non so se vai sentiate, ma penso proprio di sì perché sono attaccata alla finestra. Vediamo il rumorino dell'altro. Questo fa più rumore, so che non gira più bene perché non so se vedete, qui si è arrugginito. Li ho trovati a trambi delle uova di Pasqua dell'MT di qualche anno. Mi sa che sentite più il sottofondo della piotto, spero che vi piaccia. Comunque, ora passo a questa pallina qui, anti-stress. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora ci divertiamo un pochino con il Cristobal. Vi ricordate che qualche video fa l'abbiamo usato insieme, sperando che non si sia seccato. più o meno dovrebbe pestare, credo. più o meno dovrebbe pestare, credo. Per il nostro corso. Grazie a tutti. 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 Poi abbiamo il grand finale che è il pop-it. Ciao. 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 La cosa complicata per me è toglierlo da questo bastoncino sano e solito. Anche se l'altra volta ci riuscivo, ora no. Ecco che il sottofondo della televisione è dei miei. Ottimo. Veramente ottimo. No, no, si è fatto un pochetto spettare. Riproviamo, ragazzi. Riproviamo così. Riproviamo. Non ce l'ho fatta, wow. Vediamo se ne riesco a fare un altro. Dopo tre anni sono riuscita a staccarne qua. Wow. Non c'è male, no, ragazzi? Vi attorizzo a prendermi in giro. Vediamo. 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 viaggio. Vi permette. fate pittadino mezzamenti usiamo un po' di pop it magari usiamo l'ultima volta questo dai è sempre il solito questo qui siete pronti? molto molto carino molto molto carino non 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 rifacciamo un po' di cristobal Ok, più in. Alla prossima. Ciao. Avevo dimenticato la parte molto, molto più rilassante, i cereali, i cereali, i cereali. Come pensate a un costitore? Fatti così. Eccolo ste muccelle. Un odore pazzesco di vaniglia. Io starei a non usarli per ora. Mamma mia. Questo è il cioccolato con le gravelle di noce. Questo invece è un odore. Che cosa sia? Una marina viola. Con tutti gli sprinkles, sprinkles, sprinkles. Super, super sprinkles. Con queste palline colorate di polistiro. Ora sì che abbiamo terminato. davvero. Prima ero scherzo. Ora abbiamo terminato in bellezza. Prima ero scherzo. Prima ero scherzo. Prima ero scherzo. Prima ero scherzo. ora Ora li metti con il lupus Si, quanto riguarda il lupus Il lupus è venuto Il lupus è venuto